Centro Italia Sport di Viviani E' la grande impresa che firma i migliori impianti sportivi Centro Italia Sport ad Alba Adriatica Contattateci allo 0861 78 2041 Oppure cliccate su www.centroitaliasport.it Allo sport ci pensa Viviani Ed ora una banda che arriva dalla Polonia Che si forma all'interno di un'associazione culturale nel 1988 E anche in questa banda troviamo un bravo maestro di musica Un'amministrazione comunale che sostiene il progetto E tanti sponsor privati che aiutano economicamente la nascita del gruppo Con la banda collabora stabilmente il gruppo di Majorette Che accompagnano con le loro coreografie quasi tutte le esibizioni Dalla Polonia, Giacenzo Mikogesceva Orchiestra Denta S. Regiski Wielkie Un grande applauso Grazie mille! 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.